Il tratto di costa che va da Palermo a Messina è uno dei più suggestivi e percorsi dell'isola. Il collegamento ferroviario scorre quasi per intero lungo il litorale. Il tracciato è la cerniera tra il mar Tirreno e una regione insospettabilmente ricca di rilievi montuosi. Le alture, costituite dal susseguirsi di tre catene montuose, le Madonie, i Nebrodi e i si estendono ininterrottamente da Cefalù a Messina. La notorietà di Bagheria è legata soprattutto a un importante numero di splendide ville edificate nel 1700 per l'aristocrazia palermitana. Ve ne suggeriamo tre, tutte in un raggio di un chilometro e mezzo dalla stazione, Villa Cattolica via Ramacca 9 a 600 metri dalla stazione, è la sede del museo dedicato a Renato Cuttuso, di cui raccoglie una ricca collezione di opere, in parte da lui donate alla città, oltre alla produzione di artisti del 1900. Terminata la visita, percorrendo Corso Butera fino a Piazza Dante e poi via Palagonia fino a via Quattrocchi dove si svolta in via del Cavaliere, arrivate proprio a Villa Palagonia. La distanza si copre con una passeggiata di 20 minuti. Villa Palagonia è una delle residenze più celebri che ospitò addirittura Johann Wolfgang Goethe, che ne rimase profondamente scosso e la descrisse nel suo viaggio in Italia. E poi anche Salvatore Dalì. Colpiscono le statue in tufo raffiguranti animali spaventosi, creature mitologiche e figure deformi realizzate probabilmente per burlarsi degli ospiti del palazzo. È di proprietà privata e può essere visitata solo su prenotazione. A pochi metri dalla villa, Via del Cavaliere offre due possibilità di ristoro di natura diversa. Al civico 59 c'è la cucina raffinata e creativa del ristorante stellato I Pupi. Al numero 87 invece c'è la trattoria dolciccio, atmosfera retro e sapori di tradizione, dove le proposte del giorno spaziano dalla caponata di melanzane alla pasta alla carrettiera e alle sarde a beccafico, da brociolone al sugo al polpettone. La terza sosta è Villa Valguarnera, nella via omonima a 650 metri da Villa Palagonia. Uno tra i primi esempi di architettura neoclassica, al quale si sono ispirati personaggi come il berlinese Schinkel e il parigino Du Fournier. Negli anni 1950 fu residenza di Fosco Mareini e Topazia, alliata di Sala Paruta, con la figlia Dacia, la scrittrice. La villa è arredata con mobilia d'epoca e contemporanea ed è disponibile per l'ospitalità. Visite solo su prenotazione, per contatti si può rivolgere al centralino del comune di Bagheria. Al ridosso della stazione poi c'è la piccola trattoria Buttitta, che è il nome da tenere a mente per gustare la cucina casalinga siciliana, in particolare il pescato del giorno.